Nel video precedente abbiamo visto come estrarre copie di informazioni, di elementi da un array. Oggi è arrivato il momento di vedere come fare la stessa cosa con gli oggetti. L'obiettivo con il destructuring è sempre lo stesso, cioè evitare di scrivere estrazioni manuali tipo questa, indicando un assegnamento e una variabile, ripetendo il tutto property per property. Mentre con gli array si procedeva per posizione, qui dobbiamo indicare un riferimento alle property, e cioè il loro nome. Ecco perché quattro graffe ho indicato codice e prezzo, sono le due property che vogliamo estrarre. Questa tra parentesi è una forma compatta, perché si accetta che le variabili isolate che verranno definite hanno lo stesso identificatore delle property dell'oggetto, codice con codice, prezzo con prezzo. Significa che mi ritroverò in una variabile chiamata codice e in una variabile chiamata prezzo i valori delle property che in prodotto hanno quello stesso nome. Per cui questo bpx001 lo ritroverò nella variabile codice e il prezzo 1,25 nella variabile prezzo, che ho usato la riga sotto con il write line. Vi ricordo che write line è una funzioncina di stampa che poi vi ritroverete nel codice che pubblicherò su pastebin. È poco più di un documento write line. Ecco la pagina. Oltre a questa forma abbreviata ce n'è un'estesa in cui avremo la possibilità di scegliere noi il nome da dare alla variabile. Dovremmo completare con due punti e il nome della variabile da creare. Comunque il risultato è poi ovviamente lo stesso. Fino ad ora abbiamo destrutturato oggetti semplici, ma con un minimo di accortezza non ci sono problemi a scavare dentro oggetti annidati fino a un livello che si preferisce. Io mi limiterò a questo. Una scheda di un libro dove la prima property ha come valore a sua volta un oggetto con due property, il cognome e il nome. E la seconda property del libro è il titolo. Ecco come destrutturare. Arrivati su una property, l'autore in questo caso, che ha come valore a sua volta un intero altro oggetto, riproponiamo subito un suo schema di destrutturing. Qua tra parentesi graffe abbiamo indicato le property che ci interessano e lo stiamo facendo in forma abbreviata. Il nome corrisponde proprio a quello dell'oggetto da cui stiamo estraendo, ma potremo anche continuare con due punti e decidere come chiamare la variabile che poi avremo a disposizione. La stampa. E non siamo obbligati ad andare al massimo dettaglio, cioè se ci interessasse estrarre il titolo, lo potremmo fare in modo più semplice rispetto agli array, dove ricorderete dovevamo aggiungere dei segni a posto saltati con virgola virgola virgola. E era anche facile confondersi. Qua no, abbiamo a disposizione i nomi delle property, basta indicare solo quelli che ci interessano. Solo il titolo. Proviamo qua sotto. E come avevamo già dovuto fare con gli array, avendo già prima utilizzato la variabile titolo, non possiamo reintrodurla, cioè a meno di usare lo stesso trucchetto visto per gli array, poi lo rivediamo. E allora ho usato quel t2, titolo due punti t2. E ora il trucchetto per utilizzare, commento, beh non c'è bisogno, aggiungo qua sotto, la stessa variabile titolo usata prima. Come già visto per gli array, questo non funzionerebbe senza le tonde, perché innescherebbe il meccanismo di creazione di una nuova variabile, che però nuova non sarebbe, e avremo l'errore di variabile titolo già dichiarata. Ma incapsulando l'assegnamento all'interno delle parentesi tonde, si chiede invece di valutare un'espressione, che ha come effetto collaterale quello poi di depositare nella variabile già esistente, già dichiarata, titolo, il valore estratto dall'oggetto libro. Ho commentato gli altri write line che portavano alla stampa di promessi sposi, così siamo sicuri che quella scritta è proprio conseguente alla corretta estrazione nella variabile titolo. Benissimo, come con gli array, dopo i tecnicismi che chiariscono come funziona il tutto, esaminiamo un paio di scenari in cui il destructuring con gli oggetti si rivelerà molto utile. Oggi giorno è frequentissimo interrogare servizi esterni, ciascuno con le sue api, ma tutti che convergono su un formato universale e di scambio dati su internet, il JSON. Qui ho copiato un esempio da internet. Il formato JSON non è identico agli oggetti JavaScript, anche se lì di fondo c'è tutta. Ma in ogni caso, partendo da una stringa JSON, attenzione, non un oggetto JSON già pronto, potremo usare il metodo parse dell'oggetto JSON che ci restituirà un oggetto JavaScript e su quello sarà poi una manna operare il destructuring. Più complesso è l'oggetto, più sarà il vantaggio. C'è da osservare che la struttura degli oggetti che ricevamo in risposta non è per niente improbabile che cambi nel tempo, per cui potremmo andare a chiedere uno property che poi sparisce. Per gestire questa situazione, anche con gli oggetti, abbiamo la possibilità, già vista con gli array, di definire dei valori di default. Intanto vediamo come destrutturare. È un caso interessante perché abbiamo states, che a sua volta è un array di due oggetti. Si parte da data, che poi destrutturiamo, estraendo states, che però è un array, che qui separiamo nei suoi due singoli componenti. Stato 1 e stato 2. Stampando sulla console stato 2, abbiamo la conferma che questo blocco di dati è stato in effetti correttamente associato alla variabile stato 2. Ipotizzando che non tutti e due gli oggetti possano essere presenti, proviamo a togliere il primo e aggiornare. La stampa di stato 2 ci conferma che siamo incappati in un define, cosa di solito mai carina. Potremmo allora parare il colpo aggiungendo dei valori default uguale e poi il valore di default. Si tratta di oggetti, quindi questo è uno tra i valori sensati che potremmo dare come default, al che almeno stato 2 verrebbe trattato come oggetto, anche se vuoto. Non più un define. Potremmo spingere ancora un pochino più in là, andando a ragionare su una delle property di uno degli stati, allora dobbiamo aggiungere un altro ordine di graffe per andare a destrutturare il primo elemento dell'array states, destrutturiamo e estraiamo il nome dello stato, la variabile in cui lo vogliamo è nome stato 1, e se non ci fosse, assegnare il valore default indefinito, cosa che non è ora, adesso è fct, e infatti lo vediamo qui, nella console. Adesso proviamo ad eliminare questa property e ci ritroveremo, non un undefine, ma una stringa scelta da noi indefinito. La seconda applicazione interessante è, per trattare in modo più umano, i casi di funzioni che teoricamente potrebbero ricevere parecchi parametri, è scomodo indicarli e ricordarli nell'ordine giusto, diversi problemini, se un domani altri parametri dovessero raggiungersi, una possibile soluzione è sostituire tutti questi parametri con un solo parametro, un oggetto, dove ciascuno di questi parametri diventa una property interna all'oggetto, naturalmente, così. E la prima cosa da fare sarà destrutturare questo oggetto nelle potenziali componenti, specificando per ciascuna, una cosa sensata, un valore default. Stampiamone poi un paio per prova. L'invocazione la faccio, specificando soltanto tre dei possibili parametri, la matricola, il cognome e la nazionalità. Notate, è più difficile sbagliare a indicare i parametri, perché in un certo senso abbiamo assegnato a ciascun parametro un nome con il quale è molto più difficile sbagliare, confondersi. Non conta l'ordine con cui andremo a specificarli, potremmo indicare anche prima il cognome, poi la nazionalità, non importa. L'associazione è sempre tramite l'identificazione della property. Dovessimo aggiungere o togliere dei parametri, nessun problema, rimarrebbe comunque solo un parametro di tipo oggetto. Insomma, i vantaggi sono tanti. Qua sotto, alzo un pochino, la stampa ci conferma che sono stati decodificati correttamente le informazioni riguardo alla matricola, specificata, e al nome che invece non lo era, e quindi ci troviamo l'anonimo, cioè valori default. E con questo chiudo il video e la sezione della playlist dedicata al destructuring. A risentirci.